La Roma non può più nascondersi, ha il dovere di provarci fino alla fine per non avere rimpianti. Oggi comincia un nuovo campionato, parola di Claudio Ranieri. Amici sportivi, benvenuti allo stadio Ardenza di Livorno, non aggiornata di ritorno del campionato di Serie A. Il saluto da Riccardo Gentile. Gigi Limpiaggio. Lucanelli posizione regolare, destro! Cristiano Lucanelli! 200 gol con i club italiani per il capitano della Livorno. Raggiunge un obiettivo importantissimo, ma soprattutto porta in vantaggio il Livorno. Lancio lungo di Mexes, sponda di Toni, arriva Taddei. Tocco buono per Rotta col destro! Arriva subito il pareggio della Roma. Simone per Rotta! Pizarro! La sua battuta, c'è deviazione, poi la rete! Toni! 2-1! Torna a titolare, torna al gol, Luca Toni! Di Gennaro, un buon pallone per Lucarelli. Posizione regolare, il Giulio Sergio Esso! Lucarelli! Ancora due! Il pareggio, ancora Cristiano Lucanelli! La Roma risponde, attenzione, ma non è interessante. Pizarro! 3-2! Torna in vantaggio la Roma! Ma che partita! Menesse! Prova ad accentrarsi, pala al piede, illa francese, lo segue Moro. Menesse allunga fino in fondo, Menesse va via Menesse! Giù! Calcio di rigore! Se l'è procurato Jeremy Menesse! Pizarro! Why should I come by? Pizarro! La risposta di Rubinio! Si salva il Livorno! Lucarelli, brava il cross, reclama il pallo di mano. Calcio di rigore, decide Gervasoni per l'intervento di Juan. Lucarelli contro Giulio Sergio. Lucarelli, Bona nel 3-3. La tripletta di Cristiano Lucarelli. Che giornata per lui! Partito di Gennaro, il suo cross col sinistro! Che opportunità per il Livorno! L'è andato a saltare Sposito, più in alto di tutti. Ha colpito il pallone con il piede. Finisce qui, finisce 3-3. È una serie di emozioni incredibili allo stadio Ardenza tra il Livorno e il Roma.